Codice degli appalti è passato poco più di un anno dalla sua revisione, cosa funziona e cosa non funziona? Funzionano l'impostazione con le migliorie e con la fiducia, però chiaramente l'impostazione della fiducia verso l'operatore economico chiaramente deve essere ancora maturata nelle pubbliche amministrazioni, quindi qualche miglioria ce n'è bisogno anche per metterlo a regime come ogni macchina o un collaudo, ci sta un po' di rodaggio e quindi opportuno alcune migliorie. Il punto centrale è sapere che le società di ingegneria sono un momento centrale per la realizzazione di un'opera e sono loro che devono supportare la pubblica amministrazione in tutte le fasi in cui le pubbliche amministrazioni per numero di competenze che ha, per numero di personale e di competenze che ha, ha bisogno di supporto. La pubblica amministrazione deve conoscere il processo, le società di ingegneria devono progettare e supportare la pubblica amministrazione di un'opera e le imprese devono costruire. Primo gennaio 2025 il BIM diventa lo status di tutti gli appalti sopra il milione di euro, l'ingegneria italiana è pronta? L'ingegneria italiana è pronta, il primo convegno dell'Oce risale circa una decina di anni fa sul BIM. È chiaro che l'ingegneria italiana è anche pronta ad essere di supporto, insieme a case software, insieme a società di informatica, a strutturare la pubblica amministrazione, a formare la pubblica amministrazione nella gestione. Ci sono dei passaggi importanti, innovativi da fare, cosa ci facciamo con i modelli, come li utilizziamo al meglio per esprimere il loro potenziale. La sensazione è che il resto della filiera sia ancora però non pronta, in particolare la parte delle imprese. Si va avanti o meglio una proroga? Si va avanti, parlavamo negli ultimi convegni, magari si può innalzare la soglia, anche dovuto all'incremento dei prezzi. Ma è opportuno andare avanti perché senza che ci diamo questo obiettivo rinunciamo troppo facilmente. Dobbiamo andare avanti.